Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti e ben ritrovati in un nuovo video sul mio canale Oggi siamo qua per parlare di tennis, oggi siamo qua per parlare di internazionale d'Italia Ebbene sì ragazzi, allacciatevi le cinture perché stiamo per partire Domani sarò anche al foro, non vedrò il rap perché abbiamo i biglietti per il ground Però comunque sì, va bene lo stesso Sarà una giornata sicuramente molto bella e passerò con il mio amico Insomma noi siamo una coppia scoppiettante Dopo questa prima intro ragazzi vi invito ad iscrivervi al canale A lasciare like, a condividere, a commentare facendomi sapere la vostra Come sempre questo è il mio invito, magari oggi se mi scappa faccio anche un commentino sul ramadarizzare di Monaco Vediamo un attimo come si evolverà questo video, non andiamo troppo avanti nel futuro Però pensiamo piuttosto a parlare delle partite del foro Oppure quest'anno la partita, la situazione parte con un po' di pioggia Insomma si spera che domani non piova Farebbe ridere se piovesse domani Sì, a me non farebbe affatto ridere Però insomma la cosa sarebbe anche interesting sotto un certo aspetto Allora ragazzi Allora Tardari batte Shapovalov Dopo essere stato sotto 4-5 nel primo parziale E dopo che Shapovalov serviva per il match Tardari batte Shapovalov 7-6 al terzo invece per Tardari Poi la finalità è perché ha vinto 7-4 Bene così insomma Shapovalov Ma ragazzi non sa più come vincere Poi raga Montero batte Monfils Montero batte Monfils Insomma Monfils Ci ha regalato una sassata di dritto Non è stato in grado di vincere Insomma si sapeva Perché si sapeva Ci potevano aspettare che Montero vincesse Poi per quanto riguarda gli italiani Ragazzi abbiamo Marteer Cobolli Cobolli che batte Marteer 6-4-6-2 E ha partito male E ha partito con un brecchio svantaggio Poi però ha chiuso la partita 6-4-6-2 Insomma bene così Avanti così Buona vittoria di Cobolli Sicuramente per italiano è tutto Sheshenko batte Marrozzan Che quindi non difende i punti Che gli scadero l'anno scorso Insomma partita deludente di Marrozzan Passaro Ha iniziato e ha Purtroppo ha iniziato male con Ritternek Infatti si trovano 7-6-5-6 Insomma il primo set per Ritternek Ha iniziato male Sì ok ma In realtà è equilibratissima Nel senso cioè Iniziato male qui a un certo punto Adesso si trova 2-4-6 Adesso Si trova 6-5 E credo che serva anche Che debba anche servire per il 7 Quindi sì Passa la possibilità di andare al terzo Quindi a casa va giocando bene Non saranno due partite a suo favorito Evans e Fognini Non giocheranno oggi Giocheranno domani È una partita difficilissima Insomma C'è una partita Insomma Fabio Sappiamo Non sarà semplice per Fabio Speriamo che Il nostro tenista Il grande Fognini Ragazzi Che a quale bisogna portare Solo rispetto Visse Considerato tutto quello che ha fatto Per il tennis Italiano Veramente Quindi solo rispetto per Fognini Fognini A di fronte a sé Un ostacolo Non semplice L'ho tratto da stare Gigante Zeppieri Derbita a World Card Partita bellissima E per quanto riguarda gli uomini È tutto Invece per quanto riguarda le donne Sono andato veloce Perché obiettivamente Non ce ne sono qua Ho giocato Osaka Ha giocato Brancanaccio Anzi Sì Brancanaccio Ho letto bene E ha perso 6-4 6-2 In una partita Con 11 Prack Insomma Torravi No Ok Si è bagato Sofascor Perché Torravi 24 Per 27 Non ci credo manco Se lo vedo No Si sarà bagato Sicuramente Sofascor Si Non sono torravi 24 Per 27 Capirai Poi con l'intenzione Per oggi Sicuramente Sofascor Si sarà Ricchia di nita Quindi Per tutto il multiplo E tutto Brancanaccio Non c'è fatta Bronzetti Pure ha perso La Kenny Però insomma Sfortunato Da Bronzetti Perché Kenny Uno dell'avversario Peggiore Che può trovare Canin Ex Campionessa Slam Insomma Finalizza Slam Nel 2020 Non sbaglio Canin Anzi Canin Ha fatto Due finali Slam Nel 2020 Vincendo Nel 1 Vincendo Nel 1 Nel 2020 E ha perso Contro Sbjvmotic In finale Rangros 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 Vediamo se ne ricordo bene Oppure se sto vedendo Lapsus Sì Sbjvmotic 4 Kenny 2-7-0 Rangros In finale E poi invece Io prendo Strider Canin A battere Alep Forse Mi ricordo Adesso Muruzza Guruzza Sì Al terzo set Quindi Non mi ricordavo bene Pensavo Che fosse Chiedetto Non lo so Poi ho dimenticato Ragazzi Scusatemi Ma ieri Sono andato Dorminato Le 5 Quindi Sono Incredico Vedo Non è riuscito A giocare Errani Non è nemmeno partita E Cocciaretto Invece Sta Sta perdendo 5-2 Per Sarazzo Speriamo che la cosa più Già fosse a fare del bene Ragazzi Domani Iniziano ad esordire I grossi cali Per domani Ci sta l'esordio di Rafa Insomma Ragazzi Con Bersa Credo che per Madal Non ci saranno problemi Sentire domani La radio Solti nel tennis I pronostici Eh ragazzi Perché domani Sto per spararne Una Mostruosa Domani A Madrid Ragazzi Ho rischiato Di prendere Un pronostico Improbabile Di definire Probabile È un eufemismo Però Ho preso Una data Che vincevo Con Deminare Andiamo a cercare La clip Ragazzi Di Nadal Batte Deminare In 2-7 Queste furono Le mie parole Queste furono Le mie parole Andiamo a cercare La clip Quindi Esordisce Rafa Esordisce Esordiscono 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 Con Kopfer Ma che è difficile Ma Insomma Si può fare Napolitano I Berettini Non giocheranno Giocherà Napolitano Contro Un altro Con JJ Wolf Calvario Per Beretti Insomma Prova da giocare Anche Al 30% Al 10% Non lo so Anche infortunato Però ragazzi Beretti A mente C'è Si è affonato Due mesi Non so cosa è successo A Beretti Che ha avuto La Don Sil Non so nemmeno Cosa abbia avuto A Madrid C'è Vabbè Vabbè Strana Strana sta cosa Poi Poi Mi rimediedo Nedovic Se Se Burtuai Vabbè Non ci interessa Lajovic Sonego Invece Ci interessa Di più Questa è una partita Difficile Però Sonego In pubblico Italiano Sonego Ce la farà Sonego Profitterà Del pubblico Del supporto E questo È il modo In cui Può farlo Quindi Forza Sonego Si può Fare Nadia Altmaier Partita difficile Ma Fatidia Per quanto Altmaier Abbiamo Un'esperienza Però Nonostante Questo Secondo Sonego Comunque Queste sono le partite Di oggi Per quanto Fata Gli uomini Per quanto Fata Le donne Casati La Tatania Maria Questa è una bella Partita Esordiscono Le prime Delle In Isted Dopo Misa Perché Esordisce Sigoff Esordisce Anche Gbiontek Con Pera Ragazzi Gbiontek Credo che Si sbarazzia Facilmente Sola Per stare La stessa Discussione Con Gbiontek Poi Allora Ragazzi Un'altra Cosa Che Della Quale Voglio Andrò Parlare Allora Perché Importante Farlo Perché Poglio Farlo Finale Di Champions E' Certo Anche Il video Con Simone Liberati Abbiamo La nostra Sera Della Finale Di Champions Insomma Io Ho Fatto 1 Su 2 Perché Ho Preso Il Real Madrid E Non Ho Preso Dortmund 2 0 Su 2 Non Ha Preso Bayern E Non Ha Preso Dortmund Insomma Comunque Si Ci siamo Comun La Dortmund Non ce l'aspettavamo Ma credo Che se lo aspettassero Poco Il Dortmund Francamente Poi è sfigato Anche Una cosa E l'altra In Real Invece Me lo aspettavo Lui si è Aspettato Il Bayern Real Ragazzi Ha fatto Un'altra Represa Un'altra Ramentata Al Bernabéu Come quella Con si Di due Anni Fa Insomma Il Real E' Veramente Magia Questa Veramente Magia Quindi Questa Sarà Finale Champions Tra Real E Dortmund Sono Vincere Real Se non sbaglio Quindi Insomma 15 ragazzi Sono Veramente Una quantità Mostrosa Cioè 15 C'è Ragazzi Sono Tantissime Cioè Dove Fare 15 15 Real 15 Rafa Immaginate Sarebbe Follia Follia Allo Stato Puro Partita Nella Quale Real Ha tenuto Il Pagno Di Gioco In Mano Poi Signale Bayern Monaco Con Alfonso Davison Colasso Però Entra Cambio Giuse Luque Un po Come Ragazzi Fece Rodrigo Due Anni Fa Cambia Tutto Ragazzi Deosello Oggi Meno De Match In Per C'è La Per Me Si Prende Nove Insomma Dove Così Per Tanti Uno L'88 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 Insomma In Nove Minuti Ha Cambiato Tutto Quindi Bene Così Mi Deosello Che Si Trasforma In Idolo Del Pueblo Madre Legno Per Una Notte Ragazzi Domani Non mancate La live Del Sennò Tutto Nel Tennis Vi Ringrazio Tissimo Per La Visione Lasciate Like Condividete Commentare Facendo Misura La Vosta Ci Siete Domani Con Il Foro Non Sto Se Scendere Un Vlog Non Sto Scendere Nel Clip A domani Con Un Nuo Video Fatemi La Vosta Nei Commenti Ciao